Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Andiamo a risolvere un altro esercizio riguardante la polarizzazione di un JFET a canale N. Abbiamo il valore della tensione di pinch-off, l'ADSS, l'alimentazione, il valore delle resistenze e vogliamo calcolare il punto di lavoro. Da dove iniziamo e come facciamo lo vediamo tra un attimo. Allora, innanzitutto consideriamo quella che è la parte dell'ingresso, quindi dove c'è il partitore resistivo e andiamo a calcolare la Vg, che sarà la tensione tra il gate e la massa ed è anche la tensione ai capi di R2. Ovviamente non essendoci corrente assorbita sul gate, proprio per le caratteristiche del JFET, tutta la corrente da Vdd attraverserà R1 e poi R2 e quindi possiamo calcolare Vg col partitore di tensione. Quindi andremo a fare Vg uguale Vdd per R2 fratto R1 più R2. Quindi partitore, vado a sostituire, avrò 20 per 150k fratto 470k più 150k che mi dà 4,8 volte. Allora, a questo punto vado a fare il giro di maglia qua sotto della maglia d'ingresso e vedrò che la mia Vg è uguale alla somma tra Vgs più Vrs. Quindi, copio qua per poter tenere i pedici, allora Vg uguale a Vgs più Vrs. e poi vado a esprimere Vrs con la legge di Ohm come Rs per ID. Quindi qua avrò ancora Vgs, che poi è il valore che dobbiamo andare a calcolare per il punto di lavoro. Abbiamo bisogno di avere il valore di Vgs, allora Rs per ID. Bene, da questa posso o ricavare Vgs o ricavare ID come preferisco. Io ad esempio ricavo ID e poi andrò a sostituirla nella formula fondamentale che lega ID con IDSS, Vg e Vgs, Vgs off. Quindi ID qua sarà... Allora avrò Vg meno Vgs fratto Rs. Questo valore lo vado a sostituire appunto nella formula fondamentale. Qua ho riportato la formula. Prima di utilizzarle ed andare a sostituire ID qua, vado a svolgere questo quadrato e quindi qua avrò IDSS, quindi quadrato del primo, quadrato del secondo e il doppio prodotto primo per il secondo. A questo punto vado appunto a sostituire ID, quindi questa, vado a sostituirla qua. E quindi mi verrà... Allora mi verrà il... Quindi andando a sostituire avrò questo e poi tutta questa parte qua in cui ho svolto il prodotto per IDSS. A questo punto vado ad isolare la mia incognita, quindi un'equazione di secondo grado nell'incognita Vgs e vado a sostituire i valori che conosco, quindi tutti gli altri valori, con i valori numerici. E quindi mi verrà... Io vado a ricopiare tutta questa e la sostituisco con i valori numerici. Quindi vg sappiamo che è 4,8, quindi qua andiamo a sostituire 4,8. Poi RS è 1,2K, quindi 1,2K. I DSS qua andiamo a sostituirla qui, qui e qui, ed è uguale a 12 milli. Quindi 12M, 12M e qua è 2 per 12M per... Poi abbiamo ancora VGS off e VGS off è meno 5. Quindi sarà qua meno 5 al quadrato e qua meno 5. A questo punto vado a moltiplicare tutti questi per 1,2K, così milli e K se ne vanno e mi viene come relazione 4,8 e se ne va anche il denominatore di questo. Quindi 4,8 meno VGS uguale... Quindi verrà 14,4 che è 12 per 1,2. Poi più... Qua farò... sarebbe sempre 14,4 fratto 25 che viene 6,8... Viene... no, 0,6... Aspettate perché... allora... 1,6... 1,6 controllo, provate i passaggi... Allora, per 12 diviso 25... 6, circa 0,6. 0,576 metto 0,6. Quindi 0,6... E qua ho VGS al quadrato, VGS quadro. poi qua avrò meno e meno diventano più e quindi mi verrà 5,8 VGS ok? a questo punto vado a portare allora portare VGS da questa parte e portare 4,8 da questa parte quindi mi verrà 0,6 VGS al quadrato poi più 6,8 VGS più 9,6 questo uguale a 0 vado a ricavare le due soluzioni quindi facendo VGS uguale linea di frazione qua avrò allora meno B quindi meno 6,8 più o meno radice di 6,8 al quadrato quindi qua avrò 6,8 al quadrato meno 4 per 0,6 per 9,6 e qua 2 per 0,6 quindi qua avviene meno 6 riscriviamo meno 6,8 più o meno 4,8 fratto 1,2 qua qua ho le mie due soluzioni quindi così e così allora la prima mi viene circa meno 1,7 e la seconda viene circa meno 9,7 volte questa non è accettabile poiché non è maggiore di VGS off e quindi con quel valore lì il JFET sarebbe l'interdizione e quindi poiché non è maggiore di VGS off quindi questa non va bene e invece questa andiamo a considerare questo valore qua bene a questo punto vado a calcolare vado a sostituire questo valore qua nella formula dell'ID che vado a ricopiarmi qui e vado così a calcolare l'ID e poi la VDS quindi allora 4,8 sarebbe poi meno meno 1,7 quindi sarà poi più ovviamente RS che vale 1,2 K questo valore mi viene 5,4 milliampere dopodiché posso fare posso andare a considerare la maglia di uscita e quindi ricavare la VDS come differenza tra la tensione di alimentazione meno le cadute VRD e VRS quindi andrò a fare VDS V di S uguale ok alle tensioni VRD e VRS sostituisco il valore RD per ID e RS per ID quindi mi verrà 20 meno 8,1 meno 6,5 e qua mi viene 5,4 volt combinazione ID e VDS hanno lo stesso valore però è assolutamente un caso e quindi il mio punto di lavoro Q sarà 5,4 volt 5,4 mA valore che mi mi garantisce di lavorare in zona nella zona piatta quindi nella zona dove posso andare ad amplificare bene con questo l'esercizio è concluso spero vi possa essere d'aiuto fatemelo sapere nei commenti se è tutto chiaro ci vediamo domani per un altro video un altro esercizio un altro esercizio